Le cimici dei letti Le cimici dei letti Le cimici dei letti Loro vivono normalmente sugli animali che sono gli ospiti naturali e più che veramente vivere sull'animale vivono nei territori degli animali, quindi possono vivere nelle tire dei gatti o vivono comunque sugli uccelli che sono in genere i veicoli maggiori di trasporto delle cimici. Storicamente si considera che da un punto di vista di sviluppo della cimice fosse cresciuta sui pipistrelli e anche proprio perché vissuta sui pipistrelli abbia acquisito questa capacità di essere ematofago, come si dice, cioè di succhiare il sangue e di nutrirsi del sangue. Quindi si acquisiscono venendo in contatto con gli animali o venendo in contatto con ambienti che sono stati frequentati da animali e loro possono vivere per un certo periodo, insomma, mordono la pelle e poi ritornano nel terreno. Quindi possono vivere sui tessuti o sopravvivere sui tessuti, sugli indumenti e questo permette una diffusione. Il notevole aumento della migrazione, del movimento generale di tutte le popolazioni per turismo, per lavoro, dà ovviamente una grande possibilità di diffusione di tutto quello che l'uomo e i viaggi possono trasportare in genere. Dalle zanzare o agli insetti che in un modo o nell'altro possiamo portare con noi da un paese all'altro e poi ritrovano facilmente dei luoghi dove potersi riabituare a vivere. La puntura di una cimice di lette può essere confusa con la puntura di qualche altro insetto ematofago? Mi viene in mente la zanzara ma ci sono altre? Ma di fatto sì, perché comunque non ha una peculiarità di comparsa. La peculiarità è più forse nel tipo di morso che viene dato dalla cimice, che ha un rostro di fatto davanti sul viso, diciamo, sulla testa attaccata, le mandibole modificate al rostro, che diventa una siringa che è una sorta di doppia via, quindi buca la pelle, succhia il sangue e iniettando la saliva dentro provoca una vasodiratazione, quindi aumenta la possibilità che il sangue raggiunga il punto di lesione e inietta anche un anestetico. Quindi di fatto l'acquisizione del sangue avviene anche per un paio di minuti, ma è difficile accorgersene perché non si ha una sensazione immediata di prurito, come avviene certe volte con le zanzare, proprio perché viene iniettato nel frattempo un anestetico, quindi l'acquisizione rimane là per un paio di minuti, poi si muove eventualmente lentamente perché praticamente striscia più che camminare e quindi facilmente si riscontrano due, tre punture, una presso l'altra in maniera sequenziale molto vicine. Questo è un buon modo per riconoscere gli impatterni, per identificarlo clinicamente, il fatto che siano lesioni da cimice e facilmente la persona se ne accorge magari il giorno dopo, alcune ore dopo, anche un paio di giorni dopo, provando le lesioni. Una caratteristica che fa sempre un po' paura con i parassiti è la possibilità di trasmettere malattie, in questo caso possiamo tranquillizzare i nostri amici a casa perché attualmente le cimici dei letti non trasmettono nessun tipo di malattia, è stato immaginato, supposto, si è avuto paura che potessero trasmettere manifestazioni di virus diverse sull'idea appunto che trasmettono il sangue da un soggetto all'altro. Di fatto questo non avviene perché metabolizzano il sangue rapidamente e poi perché in realtà si alimentano a distanza di giorni così come anche i grandi animali fanno delle grandi abbuffate, riempiono ed esauriscono le necessità energetiche e poi si rialimentano quando non hanno più acquisito sangue o possono trasmettere sangue di altri individui. Questo è confortante, quello che però è meno confortante da questo punto di vista per la biologia delle cimici è la loro capacità notevole di infestazione, cioè se uno non si accorge in maniera tempestiva della loro presenza magari tornando a un viaggio e stabilendo una popolazione nella propria casa o nel proprio angolo dove si riposa e questa popolazione può crescere anche relativamente velocemente, hanno un ciclo vitale piuttosto breve. Quello che quindi è anche interessante capire con lei è anche capire quali sono i segni della loro presenza che non è necessariamente vedere l'animale ma ci sono altri segni, vero? Sì, esatto, perché l'animale di per sé è visibile d'occhio nudo, però di fatto è un animale notturno quindi passa la maggior parte del tempo durante la giornata quando si potrebbe scorgere nascosto negli anfratti dei muri, nelle prese elettriche, o comunque tutte le piccole screpurature che ci possono dire o in mezzo ai materassi per l'appunto, lasciano dei segni perché possono lasciare le uova per esempio comunque una femmina riesce a deporre anche 500 uova durante la propria vita quindi hanno una grandissima capacità di proliferazione e quindi le uova possono essere visibili come piccole lesioni bianche proprio nelle pieghe dei materassi e lì si può avere l'indicazione della presenza Nella fotografia che abbiamo visto poco fa vedevo anche dei puntini scuri, quelle cosa sono? Sono le feci delle cimici? Sì, sono le feci delle cimici, anche quelle possono essere visionate e quindi anche quelli diventano dei segnali per cui vale la pena di fare un intervento specifico Come si fa a debellarle quando si hanno in casa? Perché non è detto che siano case sporche la cimice è di bocca buona, va bene nelle case sporche, nelle case pulite basta che ci sia un uomo che dorme su un letto per poter nutrire Perché sono attirate dal calore della temperatura Cosa si utilizza? Di fatto è la temperatura che riesce a eliminare le cimici perché comunque lavare gli indumenti o lavare i materassi o fare comunque un trattamento che sia al di sopra dei 45-50 gradi riesce completamente a eliminare le cimici e di essere anche l'arvicida quindi comunque di eliminare le uova, di evitare che ci possa andare avanti il ciclo di duplicazione e di replicazione delle cimici quindi ci sono ovviamente ditte che fanno trattamenti specifici però sistemi di vapore ad alta temperatura d'acqua che possa essere utilizzato per la pulizia contribuiscono significativamente a eliminare la presenza della cimici quindi niente panico ma è bene conoscerle grazie a Mauro Piccardo direttore di Fisiopatologia Cutanea del Centro di Metabolomica dell'Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma grazie ancora di essere qui con noi